Informare i cittadini in maniera dettagliata sul virus del Nilo. È questo l'obiettivo della Regione Veneto che ha messo a disposizione dei cittadini tre pagine sul web attraverso dei link disponibili sul sito istituzionale e in quello dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. In questi mesi molti media hanno usato la notizia senza entrare nei dettagli e spesso sono circolate anche fake news. Quindi proprio per fare chiarezza e dare le giuste informazioni l'assessore alla sanità ha voluto creare questo sistema. Nelle tre pagine si leggono delle domande, quelle che generalmente ognuno di noi si pone e seguono le risposte. Intanto in gran parte del territorio prosegue la disinfestazione straordinaria per la quale sono stati stanziati 500 mila euro.